Dalla testata giornalistica Inves Brain e da Fox News del 20 luglio 2022. In un suo nuovo libro la dottoressa Birx ammette che lei e Fauci hanno inventato la scienza sui lockdown e il distanziamento sociale. L'ex consigliere del presidente Trump per il COVID-19, la dottoressa Deborah Birx, ha fatto diverse ammissioni sbalorditive negli ultimi tempi, dicendo per la prima volta alla Daily Mail che il COVID-19 è uscito dagli schemi pronti per infettare quando ha colpito Wuhan in Cina nel 2019 e che potrebbe essere stato creato da scienziati cinesi i quali stavano lavorando sui vaccini contro il coro Navi Rus. Come spiega Jesse Waters della Fox News, Birx ha ammesso nel suo nuovo libro che lei ed il dottor Anthony Fauci hanno praticamente sparato all'impazzata quando si è trattato di fornire le direttive nazionali come due settimane per fermare la diffusione e i requisiti sul distanziamento sociale. Secondo Waters, Birx ha ammesso di essersi inventata aggiungendo che lei e Fauci stavano mentendo al presidente e al popolo americano sui loro protocolli COVID-19. Con la prima menzogna, quella dei 15 giorni per fermare la diffusione, Birx scrive «Non appena abbiamo convinto all'amministrazione Trump ad implementare la nostra versione con la chiusura di due settimane, stavo cercando di capire come estenderla. Quindi i 15 giorni per rallentare la diffusione era solo un modo subdolo per adescarci in modo che potessero rinchiuderci più a lungo», sostiene Waters. «E se qualcuno avesse usato uscire di casa», ci ha detto Birx, «l'unico modo per stare al sicuro era il distanziamento sociale». A tal fine Birx scrive «Mi ero accontentata di 10 piedi, 3 metri, sapendo che anche quello era troppo, ma ho pensato che sarebbero stati appetibili per la maggior parte degli americani, tanto da consentire la maggior parte delle riunioni in famiglia, ma non abbastanza per le grandi cene e soprattutto grandi matrimoni, feste di compleanno ed altri eventi sociali di massa». La signora del Fular, come viene soprannominata, ha commesso una frode scientifica e ha indotto in errore il Presidente e la nazione con inutili lockdown e restrizioni sulla base della falsa presunzione che il virus si diffondesse tra le persone in salute, diffusione asintomatica, che è stata smentita da Cao, da Maduel ed altri. Link dell'articolo e del video nella descrizione.